Rilanciare le banche del tempo già presenti da anni nelle Marche per potenziare ancora di più il loro valore, nella logica dello scambio e non del semplice volontariato. A questo mira la proposta di legge presentata dai consiglieri Luca Marconi, di Popolari Marche Udc, ed Enzo Giancarli del PD, discussa e approvata in Commissione Sanità e Politiche Sociali. La banca del tempo è il luogo in cui desideri e disponibilità si incontrano, tutti i partecipanti infatti condividono le loro esperienze e le loro conoscenze. Istituite con legge regionale del 2001, da allora molteplici sono state le iniziative avviate. A spiegare l'obiettivo della legge è stato Luca Marconi, consigliere regionale e relatore di maggioranza banche del tempo. Ho pensato questa legge solo per un rilancio innanzitutto e un coordinamento fra le banche del tempo esistenti perché possano affrontare in futuro i progetti comuni. La validità della banca del tempo è indiscutibile però abbiamo visto che con la formula iniziale che è vissuta bene in tante realtà locali potrebbe avere un incentivo, una spinta, appunto in una confronto anche fra di loro, uno scambio di esperienza che non c'è mai stato. Quindi una struttura leggera, senza costo, appunto un coordinamento che quanto di più leggero possa esserci, che significa una struttura alla pari, non c'è una presidenza o una banca guida. La regione favorirà tutto questo e nel tempo perché no, con quarti di luna un po' più favori rispetto agli attuali, anche trovare qualche soldino per dei progetti comuni che possono essere affrontati da un certo numero di banche del tempo e quindi mettere in conto un movimento in quella direzione, sempre nella logica dello scambio. Quindi è una cosa che deve nascere comunque da loro e non deve essere, come dire, una forma surrogata di assistenza e di volontariato organizzata dalla regione. Rimane indubbiamente l'iniziativa del privato. La relatrice di minoranza Marzia Malaija della Lega Nord ha invece espresso parere favorevole alla proposta di legge, sottolineando tuttavia l'importanza di dare alla proposta il giusto risalto. La banca del tempo è una vera e propria banca in cui un correntista, cioè che può essere un semplice cittadino oppure un professionista, mette a disposizione parte del suo tempo libero per offrire dei servizi principalmente legati alle attività quotidiane di casa, però a volte anche più qualificati, anche piccole consulenze. Io sono stata personalmente coinvolta e quindi chi è che diventa correntista in una banca del tempo diventa creditore del tempo che lui ha messo a disposizione e questo tempo viene restituito da altri servizi che potrebbero anche non essere offerti dalle stesse persone a cui ha dato il suo servizio. Per cui facendo un piccolo esempio, ad esempio se un insegnante si mette a disposizione per due ore settimanali per dare delle lezioni, magari un altro giorno potrebbe essere risarcito del tempo messo a disposizione e non so, magari qualcuno potrebbe offrirsi per fare spesa o curare il giardino.